Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di piuma razio, la stilografica di scrivo. Una stilografica senza dubbio di alta qualità, una stilografica di pregio, secondo me resa ancora più interessante da un pennino, che potremmo dire artigianale quasi a tutti gli effetti, di cui vi parlerò dopo. Piuma che non va fraintesa, nel senso che nell'immaginario collettivo la piuma è qualcosa di leggero, delicato, che galleggia nell'aria. Leggendo la descrizione che scrivo propone della propria creazione, cita le lezioni americane di Italo Calvino. Io vi propongo pari pari questo modello di ispirazione, perché credo che tratteggi realmente bene quello che è la sensazione impugnando questa penna stilografica. Si rifà al poeta francese Paul Valéry che dice che bisogna essere leggeri come un uccello, non come una piuma. Infatti è l'uccello che vola senza ostacoli verso la meta stabilita. La piuma sembra fluttuare, ignara, senza apparente direzione. Un po' come a dire, noi vi diamo lo strumento e voi la indirizzate, cioè la mano la indirizza con precisione, è un po' come la meta raffigurata dall'uccello che va a raggiungerla. E questo, devo ammettere che è la sensazione che ho avuto. Vi ho fatto questa premessa perché più di qualche volta mi sentirete dire durante la recensione di quanto sia precisa questa stilografica, cosa che non è comune con un pennino così sottile come quello che vi presento oggi. Un pennino extra, extra fine a 18 carati, davvero di tutto rilievo. Cosa troviamo quando acquistiamo la penna? Il suo cofanetto, un cofanetto che come vedete ha lo stesso, la stessa tinta, un grigio scrivo, questo coloro, questa tinta a carta da zucchero che accompagna un po' tutta la gamma. Ma la linguetta, come per l'inchiostro, tra l'altro è riportato anche qui, non so se riuscite a vederlo, impresso il logo della scrivo, che è questa piuma, e andiamo ad aprirlo. La sorpresa comincia quando troviamo questo, che è un portapenne, non tanto per mettere lì qualcosa, tanto per tenere la penna protetta, ma è un vero e proprio portapenne, anche funzionale e elegante, a me piace molto. Guardate, si apre così, ha questa taschina come avete visto, nella quale troverete questo utile, questa pezzetta per pulire la penna dalle impronte, perché comunque le penne, quelle belle, quelle sono prestigiose, vanno anche tenute bene, perché è bello anche guardarle, per questo. Due, abbiamo due scomparti, uno un pochettino più generoso dell'altro, visto che queste sono penne comunque abbastanza corpulente. Ed eccola qua, la nostra bella scrivo, piuma, razio. All'interno della confezione, i documenti, facciamo uscire, eccoli qua. Un po' di istruzioni, non le tiro fuori, lo avete già visto nell'altra presentazione, e il certificato di garanzia. Due parole più che mai doverose sul pennino, soprattutto per quelli come me che inseguono più la scrittura, le qualità dinamiche della stilografica, che solamente la bellezza estetica e quant'altro. Cominciando dall'alimentatore, che è un alimentatore in ebanite, e già questo fa la differenza, ve l'ho detto tante volte, ma in particolare questa è un ebanite giapponese. Vale la pena soprattutto per due categorie di pennini. Quelli extra-extrafini, come questo, e quelli flessibili, guarda caso, cioè quelli che hanno bisogno di una particolare attenzione al flusso. Non può ceffare, l'alimentatore deve essere al di sopra di ogni sospetto. E poi il pennino, guardate com'è bello, due caratteristiche su tutte, prima di indagare a fondo. Allora, una, innanzitutto, le iscrizioni, come vedete, sembrano incisioni orafe, rispetto a tanti altri pennini che ci sono. È vero, perché comunque non sono fatte con laser, ma sono fatte col pantografo. È un procedimento un po' diverso, che riesce appunto a solcare di più, e a mantenere l'integrità, ovviamente, anche della struttura, quindi della sua nervatura, però conferiscono questo aspetto molto gradevole. L'altro è l'unicità del pennino, perché, abbiamo ripetuto più volte, ve l'ho descritto nel video introduttivo di questa azienda italiana, che ha rilevato i macchinari della storica e celebre Omas, e quindi il diametro dell'alimentatore è un diametro un po' inconsueto, non è da 6, non è da 8, non è nemmeno da 5, è da 6 e mezzo. Una caratteristica che è stata scelta e sviluppata appositamente perché è la più idonea per sostenere soprattutto e specialmente pennini dotati di flessibilità, quelli che si muovono parecchio. Il pennino, in questo caso, è un oro a 18 carati, quindi un pennino che dovrebbe avere delle caratteristiche più morbide. In effetti, non è che si senta la morbidezza, ma si sente una scorrevolezza unita alla lavorazione della punta che mi ha lasciato davvero stupito, perché di pennini ultrafini o extra-extrafini ne ho provati, ma questo sembra appartenere ad un'altra categoria. Alla fine del video lo metterò a confronto ad altri due pennini. La linea scribo prevede due leghe d'oro, quella nuova a 18 carati, che è quella che vi presenterò oggi, e quella a 14 carati, dedicata espressamente ai pennini più flessibili, a quelli elastici, che comunque sono coniugati nelle quattro gradazioni principali. Mentre invece questa si estende anche più in basso, partendo proprio dall'extra-extrafine, poi extra-fine, fine, medio, fino al triple B, e ad uno stub da 1,4 mm. Il corpo della penna è in resina, però è una resina, come vedete, molto curata, con una sezione ampia, ed è lavorata con due faccettature, che si vedono appena. Una è quella dove è comparsa adesso la scritta scrivo, e l'altra è diametralmente opposta. Consentono alla penna comunque di apparire, tutto sommato, rotonda, ma invece si appoggia bene sulla scrivania, insomma, si evita che possa scivolare, cadere e rotolare per terra, ahimè, che non succeda mai. Il caricamento avviene attraverso la cartuccia, oppure il converter. Anche per il modello piuma al pari della Phil, ci sono diverse colorazioni, presente quella ufficiale, la grigio scrivo, che è il colore che vedete, che compone un po' tutto quanto il corredo, e ci sono 219 esemplari anche per questa, come vi ho raccontato precedentemente, 219 perché l'azienda riparte, rinasce il 21 settembre, ed ecco che 219. Quindi soltanto un'edizione limitata per ogni colore, per ogni pezzo. L'andiamo a provare con un inchiostro, scrivo, il rosso melograno. Un inchiostro che è già entrato nella mia top 10 2021. Mi piace davvero molto. Guardate che bella tinta, ma tra un po' lo vedrete nel video. La penna, come vi dicevo, a differenza della Phil che vi ho presentato qualche tempo fa, è una penna che ha in dotazione un converter, e comunque ha un attacco standard per qualsiasi tipo di cartuccia che abbia per appunto quell'attacco. Vi viene fornito con il converter che noi adesso andiamo a caricare. Ecco, come sempre, se... Date una pulita. Ecco, il pennino, proprio perché sia... Bello anche a vedersi. Bel calamaio, bello solido, nel senso che sta lì, non si rovescia, in boccatura generosa. Tutto quello che ci serve. Le doti di questa penna, quindi, emergono quando la mettiamo all'opera, quando cominciamo a scrivere e scopriamo che queste caratteristiche ci accompagnano quando vogliamo giocare con il tratto, usare una calligrafia libera, con caratteri ampi, con ampe, curve, segni, tratti, perché non è sfrenata, non è il pennino che una volta lanciato non si ferma più, ma troviamo anche il suo opposto, cioè un pennino molto rigoroso ogni volta che invece decidiamo di utilizzare, che so, i caratteri dello stampatello maiuscolo, quindi di andare a raccordare dei segmenti anche a ritmo sostenuto, cioè troviamo che riusciamo a farli combacciare perfettamente dove vogliamo. E questo è un plus, senza dubbio. Vabbè, su una carta liscia scrivono bene tutte, mi direte. Allora mettiamola alla prova su una carta invece più comune. Questo è un quaderno, pigna, e anche qui non c'è la minima esitazione. Il pennino scorre davvero bene perché la finitura della punta è fatta a regola d'arte. Ecco, qui sta la differenza e sfido chiunque, l'ho già detto, a dirmi che questo è un pennino prodotto da terzi e che porta il nome di Bok. Sì, porta il nome di Bok, ma c'è solo quello perché le specifiche, sia nella, l'abbiamo detto, nelle dimensioni dell'alimentatore che è fuori scala rispetto alla norma, ma tutta la parte della laminazione dei pennini, quelli elastici, e della lavorazione di questi sono davvero fatti a partire dalla curvatura, a partire dal raggio che devono avere le ali o comunque i debbi del pennino, sono fatte in maniera esclusiva, in maniera dedicata, su linee dedicate. Quindi è praticamente un pennino a tutti gli effetti fatto in casa, insomma. Ok, però voi potreste pensare che io ve la stia raccontando. Allora, vi basta una carta come questa? Stiamo parlando di una carta di lino. Come vedete, ingrandita, è difficile farci scrivere un pennino sottile e soprattutto mantenere il rigore, mantenere l'asse che sia perfettamente allineato e che non scavalchi la tramatura, oppure metterci delle belle curve, delle forme armoniose. Ecco, questo pennino riesce a fare anche questo, cioè riesce a tradurre anche l'esperienza su una carta molto ruvida e molto texturata, potremmo dire, e senza fare una piega. È veramente riuscito per questo motivo. Provando uno è tante, vi posso garantire che un pennino extra fine difficilmente scrive in maniera così controllata su una carta che lo mette in difficoltà. Invece, guardate anche nei fotogrammi come si riesce a scrivere in piccolo mantenendo tutta la coerenza della calligrafia. Vi voglio far vedere la qualità dell'alimentatore su un pennino di gradazione extra extra fine. Guardate, non riesce a rimanere a secco. Questo per me significa prova superata. Come sempre, quando parliamo di sensazioni, di handling, di impugnatura, eccetera, andiamola a mettere a confronto con le due penne, con le due penne che uso spesso per il riferimento, cioè la Lamy. Come vedete, la Lamy Safari, in questo caso è la versione All Star, è praticamente identica. Quindi stiamo parlando di una piuma, una piuma razio, che ha una sua lunghezza. Questo invece è messo in confronto alla Pelican 150, che è una penna notorialmente piccolina. Quindi anche le dimensioni nella mia mano, come potete vedere, sono quelle da riferirsi ad una penna abbastanza corpulenta. E allora, andiamo a parlare di maneggevolezza. Ottima! Si chiama piuma, direi quasi di nome e di fatto, perché c'è un bilanciamento della penna notevolissimo. Lo si percepisce anche dal fatto che sembra, apparentemente, sembra che questa sia la parte più pesante. Ed inganna. Inganna un po' come per la Phil. Sembra che debba essere sbilanciata, invece non lo è affatto. Anzi, l'impugnatura, che è molto comoda e come avete visto, termina con una piccola svasatura, proprio per preannunciarvi che stiamo per andare a toccare il pennino, ci si trova molto bene, non appena poi si fa amicizia e si capisce dove tenerla, come impugnarla. Credo che il termine piuma sia effettivamente più che mai indovinato. Il bilanciamento c'è tutto, l'impugnatura è molto confortevole, come vedete è tutta liscia, non presenta asperità. C'è questa veretta che seziona la parte della filettatura, una filettatura, come avete visto, molto ampia, una filettatura di quelle grosse, quindi pochi giri, buon serraggio e non dà fastidio alle dita, anche perché difficilmente si arriva ad impugnare qua sopra. Come promesso, finisco con un confronto diretto tra altri due penne di rango diverso, si intende però, con dei pennini molto ben realizzati, la Pilot Custom 742, versione extra fine, e la Sailor 1911, col pennino a 21 carati, sempre extra fine. Giusto per dirvi, in che cosa si differenzia, parliamo solo l'esperienza della scrittura. abbiamo a sinistra una Pilot che senza dubbio ha un pennino un po' acido, un po' duretto, un po' spigoloso, non ha certamente la rifinitura e la scorrevolezza che offre Sailor, una scorrevolezza che, voi sapete, a mio modo di vedere, è un po' eccessiva, si lancia la penna durante la scrittura, e il pennino vola via, è difficilmente controllabile. La Custom, da parte sua, un pennino Pilot, a volte è facile all'impuntatura. Ecco che troviamo in mezzo, ed è collocata lì apposta, questo pennino extra extra fine, che se vogliamo non è così sottile come gli extra extra fine, per esempio della Platinum, l'ultra extra fine, è molto sottile, come avete visto, ma soprattutto vellutato, scrive ovunque, non mette in difficoltà, e si pone proprio come un pennino di un altro rango, mostrando una facilità di scrittura, ed un governo, cioè un controllo, che è conosciuto alle altre due stilografiche. E così, amici, siamo giunti al termine, direi, missione compiuta, da parte di Scrivo, obiettivo centrato, e io vi saluto, e vi invito ai prossimi video.